Buon viaggio, ben trovati ancora da Moversi in Toscana, Mauro Ciutini in studio. Traffico lento sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze-Scandicci e l'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze. Segnalata una perdita di carico sulla Firenze-Pisa, la 11 tra l'allacciamento a 12 Pisa e l'allacciamento a 12 Lucca direzione Firenze. E a Firenze il traffico è intenso sui viali, viale Redi, viale Guido Monaco, viale Belfiore, viale Milton, viale Strozzi, viale Fratelli Rosselli. Ci spostiamo sulla Vistie Berina, riduzione di carreggiata sull'Ai45 tra Pieve Santo Stefano Nord e Pieve Santo Stefano Sud in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Infine c'è un senso unico alternato sulla Statale 62 della Cisa tra Villa Franca e Lunigiana e Pontremori. È tutto muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. A più tardi.